Premio Behave, la quarta del convegno, la macchina che prende velocità, ha sbagliato... Seirodo... Lo stacco in questo istante... Sissi OP all'attacco di Silvi Rock, Sissi che sopravanza Silvi Rock e poi passa a condurre... Seirodo si è ripreso e risale subito all'esterno... E si va al passaggio dei primi 200 metri, Sissi al comando, Seirodo che si presenta molto deciso all'esterno... In corda c'è Silvi Rock... Seirodo che attacca Sissi OP, primi 400 metri in 29 e mezzo... C'è Sabana Jim, squalificato... Al passaggio dei primi, ha sbagliato Sabana Jim... Sissi al comando, Silvi di rincalzo, Seirodo che viaggia all'esterno della battistrada... Poi in terza posizione alla corda Sillana lunga, al cui esterno avanza Sandra Capar... Ancora Smoke di piaggia e Shara dei venti... Sidney De Reppi con a largo Stregone... 1,1 e quattro decimi per i primi 800 metri... Penultima curva con in vantaggio sempre Sissi OP, Seirodo che si industria al suo esterno... Il chilometro di 1,18... Per Sissi e Seirodo in coppia... Poi Silvi... Largo Sandra, ancora... Sillana lunga... 1,33 e mezzo, i tre quarti di miglio... Seirodo attacca Sissi OP, in corda c'è Sillana... Largo... Silvi... Poi più indietro... Smoke di piaggia... Sissi e Seirodo alle prese... Quando siamo all'imbocco della curva conclusiva... Silvi a fare da spettatrice molto interessata... Poi Sillana lunga... Cerca di farsi avanti anche Shara dei venti... Intanto Seirodo sopravanza... Sissi OP lungo l'arco della piegata conclusiva... Sissi cerca ancora la difesa... Poi Silvi... Poi Shara dei venti... Mancano 400 metri al termine... Seirodo passa in vantaggio... Su Sissi OP sulla quale interviene Shara dei venti... Ingresso della retta di arrivo... Seirodo in vantaggio... Shara che insegue... Seirodo... Shara all'attacco di Seirodo... Seirodo... Insiste Shara su Seirodo... E passa in vantaggio... Shara dei venti... Poi Seirodo... Poi Smoke di Piaggia... Ancora Stregone... Sul palo... Shara... Seirodo... Poi Smoke di Piaggia... E Stregone... Vince quindi Shara dei venti... Con Marco Lasi... Ancora una volta... Seirodo... Semina... E gli altri raccolgono... Stavolta è toccato a Shara dei venti con Marco Lasi... Che... Si impone a quota di 3,82... Per il training di Giancarlo Valdi... E per i colori del signor Stefano Simonelli... 2,50 complessivo... Per i 2,200 metri... La media intorno all'1,17 e mezzo...